Rischia davvero di non avere un nome l'autore o gli autori dell'atto di teppismo che nella notte tra domenica e lunedì ha creato molteplici danni alla struttura dell'istituto comprensivo Masaccio di San Giovanni. Le lezioni sono riprese regolarmente già da ieri, sfruttando per gli studenti gli spazi comuni a quelli di ora in ora hanno sfruttati dalle lezioni. Non essendoci però né allarmi particolari né tantomeno telecamere a circuito chiuso in funzione, le indagini del comando carabinieri di San Giovanni non sono riuscite a produrre ancora i nomi degli autori. Resta però a mente fredda la consapevolezza di un atto che va al di là dei danni alla scuola. A prescindere infatti dalla necessità di ricostruire interamente il laboratorio informatico e l'inagibilità attuale di altri spazi, in tempi peraltro nei quali le scuole pubbliche non hanno certo uno status economico particolarmente agiato, a preoccupare è l'assoluta mancanza di senso civico da parte degli autori di questo gesto che ha distrutto un bene comune.